Non ci prendono sul serio Non ci prendono più e non ci provano più Non se lo chiedono più cosa facciamo qui nelle scarpette corsa Libera uscita in un libero mondo Libera scelta di dirlo io Com'è che mi spando? Com'è? 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 oggi a Roma con il mio Marco alla Camera dei Deputati, perché siamo venuti qui a Roma? Perché vogliamo vedere se riusciamo a rintracciare qualche nostro, diciamo onorevole, quelli che ci sono, avremo la fortuna di beccarne qualcuno, oggi c'è una mozione di voto, perciò dovrebbero esserci, poi vediamo a chi incontriamo, noi stiamo aspettando, siamo già da parecchie ore qua, non abbiamo visto nessuno, però vedremo se riusciremo a fare qualche piccola battuta con qualche nostro onorevole Lametino e che ci dica qualcosa, cosa sta facendo per la nostra città, vedremo. Si sente? No, non si sente niente. Non intendo. Non intendo, non intendo, è spagnolo. Andiamo a vedere cosa dicono. Vieni, vieni Marco. Gli hai spiegato dove ci troviamo qua? Eh sì, certo che gliel'ho spiegato, la storia gliel'ho spiegato, ancora più indicativa. Raccontami la storia, no, vediamo. Alfa. Allora, questa è la Camera dei Deputati. Questa è la Camera dei Deputati, sì, però nell'epoca moderna è stata, è certo, questo era un palazzo disegnato da Bernini e costruito per essere un regalo di nozze che il Papa, Innocenzo del Decimo faceva a sua nipote, Olimpia Panfili. Quanto tempo hai studiato o ti ripeti tutti i giorni la stessa cosa? Eh? Allora, prima si studia per sapere la storia e dopo per mantenere la pazienza e ripeterlo tutte le volte. Loro sono spagnoli? Loro sono spagnoli, sì. Dove sono? È della... Valencia. 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 Vagliadolid, sono di varie città della Castiglia. Tu digli una cosa, se succedono le stesse cose in Spagna come succede in Spagna? Sì, sì, è già purata la cosa. Ti hanno detto, se qua fanno le manovre anche in Spagna. Tutto il mondo è paese. Ho capito, tutti... Tutto il mondo è paese. Qua i soldi, qua, tutto qua. Siamo latini. Molto ciori e ci. Grattos, gratos. Guardano in Italia le meraviglie del Renacimento e del Barroco. In Spagna lo hanno convertito già in viviendas come Madrid, no? Por esempio, viviendas actuales. Aunque seguono bastanti edifici, però non tantos come qui. Io non ho capito niente, me lo dici tu. Dice che praticamente molti dei palazzi barocchi sono stati trasformati in abitazione, però non c'è tanta monumentalità barocca come qui a Roma. Cioè, praticamente poi la politica ha rovinato la storia, un po', possiamo dire. Bah, da loro, beh, loro ci hanno passato di sventramenti enormi, per cui non è rimasto molto degli edifici storici. Ok, auguro a tutti una buona permanenza a Roma, perché Roma è bella, no? Eh, beh, almeno quello. Che dicono loro? Loro ci sentono. No, sono arrivati oggi, per cui gli sto facendo proprio l'introduzione del centro. L'hanno proprio incontrato me oggi. Eh, che fortuna, fortunati che abbiamo incontrato un giornalista italiano. Va bene. In bocca al lupo come si dice in spagnolo? In bocca al lupo non credo che ci sia una cosa altra. Sonia? C'è un modo di dire tipo in bocca al lupo? Vieni qua, Sonia. La bocca del lupo. E vieni qua, Sonia. La traduzione esatta. La bocca del lupo. Eh. La bocca del lupo è il governo spagnolo. È il governo italiano. Eh, a tutte e due, sì. Ok, vai, grazie. Ciao. Ciao. Vediamo. Dovremmo beccare il primo, l'onorevole Barbanti. Caro onorevole, ci vediamo a Roma, come sta? Beh, bene, bene. Bene. Sì, sì, sì. Ma è uscito adesso? No, stiamo ancora votando, ora c'è una fase di dichiarazione di voto, quindi abbiamo 40-50 minuti. 50 minuti? Eh beh, sì. Cosa va a fare 50 minuti in giro? No, di solito sto in aula, insomma, a sentire le dichiarazioni di voto, insomma. Adesso andò a prendere un caffè in giro, per prendere un po' d'aria da stamattina. Beh, sì. Ha visto gli altri onorevoli nostri dentro? Ma, sinceramente non ho guardato, anche perché non so se ci sono, penso di sì, insomma. Ok, facciamone chiacchierate, perché ho l'onore di prendere l'onorevole Barbanti, proprio qua alla Camera dei Deputati. Una domanda, loro sa chi ha costruito questo palazzo? No, mi prendi, mi cogli impreparato. Questo l'ha costruito, fu ordinato da un Papa Bernino, lo fece Bernino, lo costruì. Ah, bene. Bene a sapersi. Così, non lo sa nessuno. Sei fonte di saggezza, sempre, e di conoscenza. No, 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 va bene. Va bene, ma mi offre un caffè, qualcosa? Sono venuto dalla mese. È solo un caffè, facciamo un aperitivo, no? Lei che vende tanti soldi al mese. Alla nostra emittente qualcosa ce la può offrire. Poi parleremo anche di questo, ma lo faccio molto volentieri. Non dico il pranzo, però almeno il caffè ce lo può offrire al centro di Roma, onorevole. Con molto piacere. E dove ci porta? Qua dietro. Andiamo proprio al bar che c'è qui dietro, piazzale del Parlamento. Andiamo. Andiamo. Andiamo con l'onorevole e vediamo cosa ci racconterà la sua giornata tipo romana, va bene? Volentieri. Però già Bernini, non sapeva che l'ha fatto Bernini, questo palazzo è grande. Mea culpa. Allora è giovane, perdonabile. No, assolutamente, perché non deve essere la gioventù una scusa, diciamo, al non sapere le cose. Ma come sa? Uno non può essere onnisciente. Sono d'accordo, questa è una mia pecca, ora lo saprò. Andiamo, onorevole. Buon giorno. Buon giorno. Buon giorno. Rubbiamo questi pochi minuti all'onorevole Barbanti qui a Roma, proprio di fronte al palazzo alla Camera dei Deputati. Onorevole, innanzitutto com'è la giornata tipo di un giovane onorevole come lei qui a Roma? Allora, innanzitutto complimenti per essere qui perché la sorpresa è stata mia a trovarvi là fuori, quindi insomma vi muovete spesso ed è un piacere. Noi dobbiamo sorvegliare cosa fanno i nostri politici, la nostra missione è questa, i nostri governanti. Ed è fondamentale e so che voi lo fate sempre in una maniera molto critica, ma anche molto ponderata, garbata, costruttiva, che è fondamentale. Allora, onorevole, insomma lei arriva il martedì, come funziona la settimana? Arriva il martedì? Allora, arriviamo il martedì e di solito iniziamo con le commissioni, che è laddove si fa effettivamente... Inoltre, chi paga l'aereo? L'aereo è il costo della Camera. Il costo della Camera? C'è una spesa in meno? Beh, no, vabbè, ma tanto non è questione di spesa o meno, è che ovviamente gli spostamenti sono all'interno, diciamo, del pacchetto. Abbiamo un'agenzia... Paghiamo sempre, paghiamo noi. Pagano i cittadini, sì, se è questo, assolutamente. Perciò, ricordo che noi abbiamo pagato oggi il viaggio, tutto quanto, insomma, la Camera su questo non contribuisce. No, assolutamente, anzi, se si distraggono dei fondi per delle cose del genere è peculato, si finisce in galera. I controlli sulle spese dei gruppi partitici, sicuramente da questa legislatura, sono molto molto stringenti. Lo so perché sono stato per un periodo tesoriere del gruppo che avevamo creato, l'Alternativa Libera, quindi so come possono essere spesi i gruppi, è davvero stringente. Onorevole, io le voglio fare un po' domande che farebbe qualsiasi cittadino semplice, non magari la persona più approfondita, che si intende di politica. Le faccio domande alle gente di strada. La vita dell'Onorevole, innanzitutto, lei era il 5 Stelle ed è passato al PD. Com'è stato questo passaggio? Molto traumatico perché, come ben sapete, io insieme ad altri 4-5 folli sognatori fumo i creatori del Movimento 5 Stelle in Calabria. Siamo partiti con quelle 4-5 persone a Cosenza, dove abbiamo fatto nascere la prima cellula del Movimento, poi siamo riusciti a farlo diffondere in tutta la Calabria, perché ci credevamo davvero. Noi ci vantavamo di non aver mai avuto rapporti con Grilla e Casaleggio, ci vantavamo di rifarci a quello che erano davvero i principi, gli ideali, i valori del Movimento. E così è stato fino al 2013, quando poi siamo stati eletti e dove poi, pian piano che passava il tempo, si è visto che un Movimento che professava la trasparenza, in realtà poi non era trasparenza. Qual era la non trasparenza? La non trasparenza era tutto quello che avviene all'interno dei dibattiti e quello che vedete diciamo al di qua delle telecamere, che ormai non si usano neanche più in termini, come vedi, di diretta streaming. Ma soprattutto anche i criteri di selezione delle persone. Noi dovevamo portare avanti la meritocrazia, dovevamo portare avanti persone che dovevano avere autorevolezza e non autorità. Si era sempre detto che non c'erano capi, padri e padroni e che l'organo, chiamiamolo dirigente, lo sceglieva alla base, non ce lo veniva a calare dall'alto un blog. E poi si è visto come tutto questo che sto dicendo trova la plastica conferma nelle difficoltà che sta avendo il sindaco Raggi qui e nelle varie continue giravolte. Noi dovevamo alzare il livello della dignità della dialettica politica, dovevamo innalzare, dovevamo rendere il cittadino consapevole, anche dicendo cose che potevano essere impopolari, ma che erano vere. Lei si sentiva come gli altri, come voi, sentiva un po' pazzo del partito? Assolutamente, perché su molte cose non era possibile neanche esprimere la propria opinione, perché subito veniva tutto quello che non era un fermo, netto, becero, no a quello che succedeva in questo palazzo, veniva inautomaticamente etichettato come dissidente. Io quello che mi piace più è il termine divergente, casomai, io la penso in maniera diversa da te e la divergenza non deve portare a un isolamento o a una relegazione in una sorta di ghetto o un'etichetta, perché altrimenti qua stiamo facendo il gioco dei buoni e dei cattivi, passatemi il termine, dei nazisti e degli ebrei. Ok, onorevole, poi lei ha deciso di passare al PD, perché questa decisione di passare al PD? Perché lei viene da una provenienza del PD di sinistra? Allora, io come, diciamo, andiamo nel campo delle ideologie, perché ormai, anche se insomma lasciano il tempo che trovo, e fai benissimo. Al suo stipendio. Metti il dito. Dopo ne parliamo di questo. Assolutamente sì. Dicevo, io ovviamente appartengo più a un'estrazione di centro-sinistra, invece vedi, tornando al questo del movimento si è visto come invece ha pericolosamente virato verso un'orbita di estrema destra. Prima di ovviamente scegliere di approvare nel PD abbiamo pensato con altre dieci persone di creare un gruppo, l'Alternativa Libera si chiamava, perché volevamo davvero portare di nuovo al centro quello che erano i valori, gli interessi, gli ideali e diciamo le ideologie del movimento. Era quello che volevamo fare. Abbiamo visto che però purtroppo tutti gli spazi erano anche occupati, persone deluse dal 5 Stelle non sarebbero, diciamo, rientrate, non sarebbero riattivate in politica, persone già schierate erano ormai ciechi e fedeli servitori del movimento e quindi non avevamo praticamente nessuna speranza, tanto più che poi il gruppo si è unito insieme a quello di Civati e io lì insieme ad altre quattro persone insomma siamo usciti, perché ormai le differenze anche ideologiche delle battaglie che portavamo erano lontane. Lì ho visto ovviamente nel PD l'unica forza capace di incidere nel territorio e che dava anche spazio a quello che poteva essere un mio apporto. Ci ho provato, è una battaglia, me ne assumo tutte le responsabilità, certo è che io ci provo, come si dice a noi, con tutti i sensi e con tutta la buona volontà. Spero di raccogliere dei risultati per il territorio. Come vi ha accolto Renzi, a voi che siete usciti dai 5 Stelle e siete entrati nel PD e come vi hanno accolto i vostri colleghi già del PD? Allora i miei colleghi... Sembra che il ritorno del figlio prodico, si può dire così? No, non è neanche quello perché nella conferenza stampa di presentazione che facemmo con Luca Lotti quando venne giù in Calabria, lui lo disse, noi con Luca c'è un buon rapporto e lui ci ti teso a sottolineare che su molte cose eravamo anche di differenti vedute, però abbiamo sempre mantenuto nell'ambito di una dialettica costruttiva queste differenti vedute ed è quello una chiave davvero anche di svolta. Continuano ad esserci cose che a me piacciono, altre cose che piacciono un po' di meno, però sei all'interno di un consesso che ti consente di poter costruire qualcosa dialogando e parlando. Di avere una funzione nel partito. Assolutamente e soprattutto... Se in questo palazzo bisogna contare qualcosa, specialmente per la propria terra. Assolutamente, che è una roba che noi stiamo pagando tantissimo, quello di non poter avere una vera, unita, compatta, fruttevole rappresentanza anche qui in Parlamento e soprattutto avere un legame con i territori, cosa che io mi sto sforzando per le mie origini d'altronde di fare, io so fare politica in quel modo. Guai se qualcuno pensa che ovviamente io sia tacitato nelle mie azioni o nello spirito critico. No. Io impondo la mia azione politica, ma anche la mia vita da cittadino, nell'operare correttamente e far sì che nessuno debba vergognarsi della mia azione. E come lo faccio io? Pretendo che lo facciano anche gli altri. E quando c'è qualcuno che non lo fa, io mi sento libero di poterlo criticare sempre in maniera costruttiva e in maniera ovviamente garbata, perché di urla ne abbiamo sentito abbastanza. Un onorevole giovane, non di vecchio stampo, anche nuovo nel palazzo, scopre le stanze giorno per giorno. La problematica è per esempio sanità. Parliamo di Lamezia. Lei ha detto qualcosa della nostra sanità, cosa succederà, se ci sono sviluppi positivi. Insomma ha sentito qualcuno. Allora, ho sempre riferito... Lei fa parte della maggioranza, ricordiamo. Sì, sì. Io qua ho sempre riferito quello che era l'operato, in questo caso nella nostra regione dei commissari e di tutti i malumori che ovviamente stavano creando. Così come però ho sempre detto che la politica, più che gestire le strutture della sanità, che creano poi ovviamente clientelismo, devono gestire quello che è il diritto alla salute dei cittadini. Quindi se io ho qualcosa da recriminare nei confronti dei commissari, attiene al diritto alla salute, non alle strutture. Detto ciò, è ovvio che quando le due cose, come il caso dell'ospedale di Lamezia, diventano una sola, allora lì ovviamente la mia arrabbiatura diciamo è il doppio. Le alza la voce qui in queste stanze? Assolutamente. Non manco mai di far sentire la mia, la nostra voce, quella insomma comunque dei calabresi. E l'ho sempre detto che noi dovremmo pensare a contare un po' di più in questi palazzi. Perché se anche la nostra, diciamo poco peso, non è dovuto solo alla scarsa numerosità della popolazione, noi esprimiamo 20 deputati, ma se quei 20 non riescono neanche, ho fatto le dovute istinzioni tra maggioranza e opposizione, ad avere una visione univoca, a fare squadra, ad avere ruoli di posizione, perché chiariamoci, per poter fare qualcosa per la propria terra bisogna anche ricoprire determinate cariche, sedersi su determinate poltrone, che scottano, che hanno onori ma anche oneri. E noi dobbiamo essere capaci di fare quello, per cercare di fare qualcosa per la nostra terra. Onorevo, parliamo un po' della Sagra. Quello che sta succedendo nella Sagra, perché vogliono accorpare sia Crotone che Reggio Calabria, due aeroporti possiamo dire falliti. L'aeroporto nostro è una cosa che abbiamo positiva, è proprio l'aeroporto. Cosa succederebbe se noi, diciamo, acquistiamo, tra virgolette, anche l'aeroporto di Crotone e di Reggio Calabria? Come gestione, parliamo logicamente. Come gestione? Ho letto il bando dell'Enac, anche se molto velocemente. Hai detto bene, i due aeroporti di Crotone e di Reggio Calabria sono praticamente falliti. Quello di Lamezia, non voglio fare allarmismi, non è con un piede nella fossa, ma poco ci manca. Abbiamo avuto una perdita di 2 milioni di euro nell'ultimo anno, il patrimonio è ridotto a 5 milioni e mezzo e in realtà c'è un aumento di capitale che ancora deve essere fatto e dobbiamo arrivare a 12 e mezzo, una roba del genere, quindi c'è bestrada. Si è stata creata da poco la handling, con molte titubanze, non so dove porterà e quant'altro. Ora, pensare, tra l'altro c'è, perdonatemi, un investimento di 54 milioni di euro che devono fare sul modernamento dell'aeroporto. L'ammodernamento dell'aeroporto, esattamente, dove, vado a memoria, poi correggetemi se sbaglio, ma sembra che la quota a carico della SACA è 34 milioni di euro, 9 milioni in più rispetto a quelli prospettati. Quindi questo disegna già un quadro di una situazione abbastanza da attenzionare, per non utilizzare altri termini, sia da un punto di vista finanziario che da un punto di vista di organizzazione. In questo contesto, pensare di andare a prendere altri due aeroporti, e poi mi sembra che il bando non parli né di situazioni debitore né di personale. Ricordiamo che ancora c'è il bando, non è che è una cosa sicura. Assolutamente. Però è meglio, come noi diciamo nella segna stampa, pensiamoci adesso, non vorremmo trovarci una brutta sorpresa. Esatto. Quando poi nel bando non parla né di situazioni debitore, vado ovviamente, l'ho letto velocemente, né di dipendenti, lì è da attenzionare. Ma c'è un altro passaggio che vorrei fortemente sottolineare. Qualche mese fa è stato presentato il piano aggiornato, il piano strategico è la SACAL, dove si dice cosa vuole fare l'azienda da qui a X anni, di solito sono 3-5 anni, a seguito di quella creazione della handling. In questo piano strategico non era minimamente contemplata la possibilità di acquisizione di altri aeroporti. Non c'era. Quindi che adesso il CDA dia mandato a una società per studiare i riflessi che si avrebbero sulla SACAL senza avere prima un piano strategico che delinea questa cosa qui, per me è follia. A che è venuta in mente questa cosa? Non lo so, però sarebbe facile sparare a zero ovviamente su alcune situazioni, ma non voglio, non è quello. Quello che ci tengo a dire è che bisogna pensarci 20 volte prima di fare un'operazione del genere. Perché la mezza è la maggior azionista per gli aeroporti. Assolutamente. Assolutamente. A questo punto noi dovremmo contare qualcosa. Adesso non ci hanno mai fatto contare niente, almeno penso che il sindaco dovrebbe darsi una mossa nel senso che sicuramente però è qualcosa, che non facciamo qualche fesseria. Il sindaco già per il suo rappresentante in SACAL, in CDA, ha l'onere di quello che succederà con la handling nel bene e nel male. Adesso è la stessa cosa per quanto riguarda l'eventuale acquisizione. Ripetiamo, di due aeroporti dove su quello di Reggio sappiamo che c'è bisogno di avere alcuni piloti bravi con un determinato numero di ore di volo per atterrare perché è un aeroporto un po' difficile. Crotone è dettagliato fuori dalle aerotte, diciamo, anche quelle più commerciali, Ryanair, low cost, insomma. Crotone abbiamo visto, insomma, che praticamente non ha più voli, da ottobre anche Ryanair va via. Quindi anche qui, se anche prendiamo quei due aeroporti, è stata fatta una richiesta di avere traffico su quegli aeroporti. Cioè, a costo di sembrare impopolare, ma siamo sicuri che la sfida della mobilità in genere calabrese passi per il fatto di avere tre aeroporti e non per il fatto di avere un aeroporto grande, che funzioni bene, che vuol dire anche tariffe più basse, raggiungibile in un'ora da tutta la regione Calabria. Cioè, serve una struttura di collegamenti o via treno o via auto che consenta di raggiungere in brevissimo tempo l'aeroporto di Reggio e di Lamezia. Il modello, un po', è quello dell'Emilia-Romagna. Nell'Emilia-Romagna hanno tre volte la nostra popolazione, a Bologna c'è un aeroporto. L'aeroporto Marco Polo. Però il problema, il vantaggio, è che da Parma, sono 130 chilometri, ci metti 50 minuti a raggiungere l'aeroporto. E da noi invece, se prendiamo più o meno a distanza pari Reggio Calabria, ci vuole un'ora e mezza. O per dire, peggio ancora, Crotone, che è ancora più vicino, ma ci vuole ancora più tempo. Insomma, è un'operazione che a lei non piace. O se dici, perplessità, dubbi. Abbiamo parecchi cittadini. Assolutamente. Ci sono molte critiche su questo fatto dell'aeroporto, di entrare insieme agli altri aeroporti di Calabrese. Compriamo un debito, che non dobbiamo fare. E tra l'altro, non vorrei, poi, perdonatemi, sono sospettoso, ma quando abbiamo una parte di un CDA, di cui una parte sappiamo i problemi, hanno la scura della magistratura che pende sopra, per determinate cose, assunzioni facili, appalti facili, passatemi l'approssimazione giuridica, ho un po' di perplessità che poi, ovviamente, vadano a gestire situazioni ancora più complesse. Lei sta di sopra con il suo occhio vigio su questa faccenda, sicuramente. Assolutamente. Onorevole, quanto guadagno? Scusa se cambio, vado così, perché la gente lo vuole sapere. Lei, quanto così giovane? Lei, in assoluto, che lavoro faceva prima di essere onorevole? Perché non tutti lo sanno, eh? Allora, io lavoro per una società che fa, diciamo, consulenza per le banche, quindi mi occupo di pianificazione strategica, marketing, controllo di gestione, quindi, sostanzialmente, quando una banca, soprattutto quelle piccole del territorio, devono capire un po' qual è, diciamo, come vogliono sviluppare il proprio business da qua a tre, cinque anni, quello che ci avevamo un po' prima con la SACAL. Allora, in questo caso chiamano la struttura dove lavoro e si fa il piano strategico. Una consulenza. Una consulenza, esattamente. Una consulenza. Quanto guadagnava prima? Prima guadagnavo circa 2.500 euro al mese, netti. Per le 12 mensilità sono circa 55.000 euro l'ordi annui. E ci sta, per la sua professione, no? Ma qua, diciamo la verità, chi dice 15, chi dice 14, chi dice 16? Lei è effettivamente un onorevole. Quanto guadagna qua? Mi dica la verità. In totale sono 11.300 euro netti. Che lei prende al mese? Sì. Riesce a vivere? Abbondantemente, molto, fin troppo. Il problema è... Mi dica, quali sono le spese che lei ha? Tante. Se... Le puoi allencare se vuole, non è che voglia fare dei suoi conto in trastro. Consideriamo l'appartamento ovviamente a Roma, di solito un paio di collaboratori che ognuno... Pagano l'albergo a Roma? No, assolutamente. Non lo vuole pagare da voi? Sì, sì, sì. Albergo, casa, sì, sì, assolutamente. Ma mi ricordo che una volta non era così. E se una volta non era così e ora non ha cambiato, bene, perché è tempo di tagliare comunque qualche spreco, qualche... Altrimenti, diciamo, 800 euro a me e se vanno via? No, io pagavo intorno a 1150 euro compreso di condominio e poi devi aggiungere le bollette, sì. Diciamo... Vicino a Larga Argentina, per dire. Al centro. 1500. Poi, esatto. Poi hai chi uno, chi due collaboratori, più gli addetti stanno. E se uno lo deve lavorare, sì, perché poi ovviamente c'è chi ti segue i rapporti con il territorio, c'è chi ti fa le interrogazioni, comunque tutti gli addetti sindacati ispettivo, ti studia le leggi, ti fa dei dossier, quindi due collaboratori... Siamo tecnicamente i collaboratori di un'ora. Collaboratori parlamentari, la questione dei portaborse è... Non esiste più superato. È per la storia. Almeno io vi parlo da questa legislatura e ci sono da questa, nelle precedenti non c'è. No, 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 come sta andando adesso, parliamo del presente. Allora, ci chiamano i collaboratori parlamentari, ma sono assunti, sicuramente. Assolutamente. Non essere assunti per lei. Assolutamente. E vanno via altri 3.000 euro. E di più, sì, sì, largo circa sì, anche di più, la Camera mette a disposizione 3.600 euro all'interno di quegli 11.300 di cui vi parlavo prima, mette 3.600 euro a disposizione per le spese, si chiamano di esercizio del mandato, la metà di... Oltre 11.000 euro. No, 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 all'interno degli 11.000 euro. Ora ti dico anche come sono divise i vari capitoli di entrata. Sì, finalmente chiaremo questo fatto. Che tra l'altro è tutto pubblico sul sito della Camera, cioè nel senso è per tutti il trattamento economico uguale. questi 3.600 euro, la metà devono essere rendi contati alla Camera. Cioè, io devo presentare di almeno 1.900 euro come li spendo. Cioè. Se non lo presento la Camera se ritiene e quindi non me li dà. Non ho fatto da 11.000 euro. Esattamente. Ok. Poi abbiamo, quindi abbiamo 5.000 euro che sono lo stipendio netto. Ci vuole. Esatto. Poi ci sono 3.500 euro che sono la diaria. È una cifra che serve per pagare l'albergo, la casa, il mangiare quando uno è a Roma in trasferta. Questi 3.500 euro viene ogni giorno di assenza dai lavori della Camera, vengono detratti di 206 euro. Della presenza. Esatto. Se io mi assento 10 giorni mi tolgono, quant'è? 2.060 euro. No, di più. Quanto sono al giorno? 206 euro. Sono 10 giorni su 4.000 euro. Eh no, 10 giorni su 2.060 euro. Ah sì, lo scusi con le matematiche perché stipendi l'ho sempre tognato ma non ci arriverò mai. Poi abbiamo circa 1.100 euro di spese di trasporto che sono per arrivare i tassi e quant'altro, quindi escluso quello aerei con Alitalia che abbiamo ovviamente gratis e treno e quant'altro. E quello arriviamo praticamente, non dimentico nulla, no? Arriviamo praticamente a quegli 11.000 e passa. Il problema reale è che innanzitutto bisognerebbe secondo me far lavorare di più la rendicontazione, un po' come avviene al Parlamento europeo. Io Camera ti do i soldi ma non a te. Li do ad esempio ai tuoi collaboratori, li do direttamente per pagare l'affitto di casa. Insomma, alla fine la domanda è questa, non levo, per fargli contentarsi che a quanto gli rimane... Rengono uno stipendio dignitosissimo, a me personalmente rimangono dai 3.000 ai 3.500 euro. E io mi domando una cosa, che dicono i cittadini? Ma quando era il 5 Stelle lei doveva lasciare il metà, come funzionava? No, quella è un'altra storia, un'altra leggenda metropolitana. Un'altra leggenda metropolitana fatta da... Ma tra l'altro, ecco, proprio questa cosa mi va a supporto, perché lo stipendio che come avevamo firmato noi era 60.000 euro l'ordi annui se non erano, erano 3.200 euro al mese. Tutto il resto era da rendicontare. Quello che non si spendeva, quindi i 3.600, i 3.100, i 3.200, più quello che si spendeva fa un tot, sottrai metti che fanno 10.000 euro, 11.200 nei incassi, i cui 1.200 in più devono essere restituiti. in quel modo funzionava. Il fatto è che ora si sta vedendo anche dai miei ex colleghi che non stanno restituendo più niente, che se uno vuole lavorare, ed è quello il discrimine, se uno vuole lavorare quei soldi li spende, perché sta in giro, perché fa attività sul territorio, perché fa convegni, perché fa beneficenza, tutto quello che... Lei è presente dappertutto, me lo trovo sempre dappertutto quando viene in Calabria, cioè lei tutte le settimane in Calabria, ricordiamo che lei c'è la famiglia e le mezze, sono sempre presenti. E su questo devo ringraziare mia moglie, lei sa il perché. Sua moglie cosa dice, è sempre fuori di casa, è sempre fuori di casa. Ho una grandissima fortuna che lei in questa avventura mi segue, mi sostiene. Di supporto, la supporto. Io ho sempre detto che dietro un grande uomo serve una grande donna, anzi c'è sempre una grande donna. Io non sono un grande uomo, ma mia moglie è una grande donna. Bel complimento, bel complimento dell'onorevole Barbante e della sua signora, che lo salutiamo veramente carameggio, e della sua bambina, no? Bambina e bambina. Bambina e due bambina. E onorevole, ho saputo un'altra cosa. Ah, che poi tra l'altro, chiudendo il discorso stipendio, il problema vero è che se qui dentro una persona non vuole lavorare, si imbosca tranquillamente e non lavora. Sono tanti. No, non voglio neanche generalizzare, è un po' come una classe di studenti, no? La pecora nera c'è. Lo vediamo quando fanno l'inquadratura della camera, entri solo tutte quelle sedie vuote, onorevole. No, dipende poi da quando fanno l'inquadratura, perché se fanno l'inquadratura ora, anche adesso, magari ce ne saranno poche, ma perché durante alcune fasi della discussione… Oggi ci sono delle emozioni importanti. Oggi sì, ci sono delle emozioni che sono già state discusse, però anche il vero lavoro si fa all'interno delle commissioni, perché andiamo per materia, per competenza. Ora, a me magari per interesse personale potrebbe anche interessare una proposta di legge, un qualcosa su un settore particolare, io sono commissione finanza, però a molte persone posso capire che può non interessare, ma anche perché banalmente o sono impegnati in altre attività, o non hanno le competenze, ci sta, insomma, non è che… o magari se ne disinteressano perché ovviamente si concentrano su altre cose, discussioni che riguardano leggi che ovviamente non sono nelle loro competenze. Ecco perché le commissioni sono fondamentali ed ecco perché quello che si dovrebbe fare di più, a prescindere dallo stipendio, è quello di far lavorare. No, 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 ma è una sponda perfetta perché io penso, mettendomi il cappello del cittadino, ma io li pago pure il doppio, ma devono lavorare e devono produrre risultati. Onorevole, su che cosa si sta impegnando? Io faccio tra una domanda e l'altra, faccio la battuta spiritosa, su che cosa si sta impegnando attualmente per la città della Mesteterme e diciamo per la provincia? Allora, i capitoli sono un bel po' anche perché per fortuna la nostra città abbonda, per fortuna o per sfortuna, abbonda di tematiche. Come abbiamo detto sicuramente l'ospedale, su cui l'attenzione è sempre alta, l'aeroporto di Mesteterme, la zona industriale in genere con un progetto che c'è anche di efficientamento logistico, la fondazione Terina, dove siamo in una situazione davvero paradossale, paradossale. Come va a fare perché i dipendenti lamentano gli stipendi da parecchi mesi, giusto? E hanno ragione, ma il problema… C'è un sovranumero, là purtroppo sono stati sbagli fatte nella politica precedente, dobbiamo dirlo, perché sono stati assunti più di quanto dovevano esserci, però ormai ci sono, però trovate una sistemazione per queste persone, non è che si possono buttare in mezzo da stare. No, per carità ci mancherebbe perché poi dietro ognuna di quelle persone c'è una famiglia e quindi quello che dico io è che quelle persone non sono troppe, oddio, sono troppe ore, devono diventare poche nel futuro più prossimo, nel senso che la fondazione Terina ha delle capacità che si è ben sviluppate con una persona che lo segua per bene, quelle 40 persone sono anche poche, è la vera sfida che deve raccogliere Oliverio, a cui io richiamo alla sua responsabilità, richiamo alla sua responsabilità e mettere lì dentro una persona che faccia funzionare la fondazione Terina, a pieno, per quelle che sono le sue potenzialità, perché le soluzioni, e ne parlavamo anche con il vicepresidente Viscomi, le soluzioni le abbiamo, sono sia normativamente parlando che operativamente parlando, sono tutte sul tavolo, serve qualcuno che le applichi, serve chi conosce la fondazione Terina, serve chi conosce gli ambienti della regione, serve chi conosce il mondo della ricerca, e che stia lì alla Terina 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ho parlato anche con i dipendenti, sono anche d'accordo da questa cosa, poi sono a parte i dipendenti, può essere spostata tramite la creazione del Corap ad altre mansioni, sollevandogli alcuni costi della Terina, ben venga, ma il mio auspicio è che la Terina, che ora fa 40 dipendenti, da qui ad un anno ne faccia 80, anche perché tutto l'indotto che può creare è una ricchezza per tutta la Calabria. Si può creare tante cose, però se ferma cose non crea niente, no? Assolutamente, basta mettere per esempio per rilanciarlo nei bandi del PSR l'utilizzo della Terina, sfruttiamo quei locali per fare i convegni invece di andare a pagare alberghi per fare i convegni là, utilizziamo quello che abbiamo. Onorevo, oggi c'è stata una mozione sui piccoli paesi, non ero, inferiore ai 5.000 abitanti, se sbaglio mi correghi, mi sono informato per lo sviluppo e per la ricostruzione dei centri storici, la riqualificazione dei centri storici, lei cosa ne pensi di questa mozione, che state votando appunto adesso. Allora, va benissimo. Abbiamo tanti paesini, di 4.000, 5.000 il nostro intervallo. E tra l'altro sono fantastici, belli, dovrebbero sfruttarlo un po' di più, perché agricoltura e turismo abbiamo, quindi vanno valorizzati sicuramente, il problema è un altro, che secondo me anche per favorire delle sinergie, il che vuol dire maggiore efficienza, servizi che funzionano di più, minoritasse anche i cittadini. Dovremmo cominciare a pensare se vale la pena mantenere tanti piccoli comuni da 5.000 abitanti o cominciare a ragionare su fusioni di comuni, crearne uno, come fu per la Mezzi. Diciamo per esempio Ferroletto, Pianopoli e Serra Stretti si potrebbero unire. Un comune insieme. Un comune insieme, tra l'altro lo Stato ha anche degli sgravi fiscali e degli incentivi per i comuni stessi, anche soldi che versa cash per favorire l'unione della fusionale comunale. Un suo pensiero, un suo sogno. Sì, ma perché, poi per carità, mantenendo anche le proprie identità, perché non dobbiamo essere legati al campanile, soprattutto in questo momento, perché poi per rimanere legati al campanile, sacrosanto, giustissimo, però poi ci rimettiamo in termini di servizi e anche di tasse. Un esempio virtuoso, l'abbiamo, è la Mezzi. Cioè, da tre comuni, ancora oggi sento dire, ah ma io sono di San Biase, io sono di... Ma questo è una leggenda, dovremmo essere più... Sì, sì, assolutamente. Facciamo la vera tra i poveri, parliamoci. Sì, dovremmo da questo punto di vista riscoprire un po' più il senso di comunità su questo. Anche se un po' di realtà come le squadre di calcio, San Biase, la Mezzi, sta bene perché come Chievo, ci sta bene le varietà del quartiere, diciamo, però dobbiamo essere tutti uniti e compatti. Ma sì, quando rimane poi a livello anche di zingarata, di sfotto, è anche bello perché insomma alla fine... Forse è mancata proprio questa compattezza tra i nostri tre comuni che non siamo cresciuti politicamente a livello nazionale. Sì, può anche essere, lì c'è un problema sia di territori ma sia poi soprattutto anche di partito perché qua il partito poi deve prendersi, partito, movimento che sia qualunque organizzazione politica poi deve prendersi anche le proprie responsabilità a fare un esame di coscienza, un mea colpa è ripartire dall'analisi dei problemi in maniera costruttiva. guai a nascondersi e trundito a dire noi siamo i più puri, noi siamo bravi, non abbiamo problemi... una cretinata, lo sappiamo tutti quanti e però sai, hai visto io, non ho nulla da nascondere e se c'è da, come hai detto prima, fare critiche costruttive, io sono il primo che le faccio, però da onesta punto costruttive. onorevole, un'altra cosa, io le faccio la domanda a sé, la domanda diciamo che quello che dice la gente, quello che vuole sapere, ho saputo una cosa perché mi sono un po' informato su Drea, ma lei fa parte anche della nazionale calcio parlamentare, è vera questa storia o no? Sì, le spese di questa squadra che so che è andata a giocare a Venezia fra poco, contro un triangolare... contro le vecchie glorie del Venezia e la nazionale geometrisca. E' in questi giorni se non è? Sì, sì, sì. E paghiamo sempre noi, come funziona? Ecco, un altro fatto perché tutti ne facci questa domanda, lei c'è domanda, come funziona? Guarda, la nazionale parlamentari è uno degli esempi di come effettivamente si può, cioè si va oltre quello che è lo scuolo. Che ruolo gioca? Io gioco, dipende dal mister dove mi fa giocare alcune volte. Il mister a proposito? Picchio desisti. Ah, sì, sì. Picchio desisti? Il film famoso del Lino Bamp. Oh no, picchio desisti. Marco, che è lì che ti ricordi del film del Lino Bamp. Di solito ho come centrocampista destra, sono centrocampista sinistro, quindi o alcune volte mi metto un po' dietro le punte. Come funzionano le spese? Perché sicuramente voi non andate a dormire nella pensione Miramara, andate in alberghi dell'Ulsto, insomma, con la squadra. No, no, anzi, guarda, sfatiamo, io poi parlo per me, dovunque andiamo, ovviamente in questi eventi sono tutti a carico nostro, perché sono eventi ludici, ma soprattutto di beneficenza, perché tutti gli incassi che racimogliamo, insomma, con queste partite e anche qualcosa che mettiamo noi, vanno tutti quanti in beneficenza ogni volta, insomma. Perché voi mettete qualcosa durante le partite voi? Mettete un piccolo gettone, diciamo. Non si dovrebbe dire. Non lo dico, non lo dico, non lo dico. Sì, no, anche perché non, come si dice, fai la... È una squadra che fa beneficenza a tutti gli effetti. Sì, sì, da questo punto di vista, sì. Ed è fatto da tutti i membri, andiamo dall'estrema destra all'estrema sinistra. Senti tutti amici, è giusto che lo sport unisce poi. Sì, perché, vedi, la cosa che... Galati, c'è Galati. No. Secondo me non c'è perché poi che qualcuno gli tiene i capelli. Sì, cattivo, eh? No, l'ho detto io, l'ho detto. Sì, cattivo, eh? No, no, vabbè. No, no, vabbè, non è capito, salutiamo Pino Galati, per l'amor di Dio. Insomma, gli è riuscito il trapianto, è venuto bello. Non vorrei che uno vada, nel momento, gli giocava a pallone, gli piace il calcio, gli tiri i capelli, gli rimane... No, non vogliamo questi danni. Comunque, onorevole, abbiamo detto un'altra cosa. Questo fatto della squadra, insomma. Io vi voglio fare una domanda. A lei, quanti volte è stato eletto con il Movimento 5 Stelle? Allora, abbiamo fatto le primarie, diciamo, interne. Come ha funzionato la sua elezione? A un certo punto, era dicembre, se non mi sbaglio, vado a memoria, perché parliamo del 2012, si aprirono delle selezioni. Via internet. Via internet, sì, sì, sì. Lei, praticamente, come ha funzionato? Vogliamo sapere, praticamente... Prima fase, candidatura. Tutte le persone che erano iscritte al Movimento Entro Una Certa Data, che erano residenti in Calabria, in questo caso, presentavano un curriculum per metterlo online, facevano un breve video di presentazione e poi si sono aperte le candidature. Chiunque era iscritto certificato al blog, residente in Calabria, iscritto da Una Certa Data al blog, poteva poi votare. Esatto. E quindi là hanno votato una platea, non mi ricordo quante persone erano. All'epoca eravamo non tantissimi, forse in tutta la Calabria, tre o quattrocento persone, acconti fatte. Ma magari con pochi voti nella selezione... Sì, io ne ho avuto 69. Bel nuvolo. Con 69 voti lei non è diventato parlamentare, è entrato a far parte dei candidati. Nella lista, esattamente. No, non facciamo confusione. Perché c'era il Porcellum allora. Non facciamo confusione, con 69 voti, l'onorevole è entrato a far parte delle liste candidabili alla Camera dei Deputati. Giusto. Poi abbiamo avuto il 20... Poi ovviamente c'è stata la votazione il 23-24 febbraio, 24-25 febbraio. E con quante voti è stata lei? No, non ci sono i voti di preferenza, abbiamo preso il 25% in Calabria. Sì, mi ricordo. Non mi ricordo a quanti voti corrispondono. Con 69 voti, possiamo dire. Anche meno alcuni miei colleghi. Ma d'altronde, vedi, è il funzionamento. Sostanzialmente lì erano anche pochi, perché c'erano le persone che ci avevano creduto di più. Ma lei immaginava che diventava onorevole? Mai. Non ci avrei mai pensato. Cioè, quando nel momento in cui gli hanno comunicato, non so chi gliel'avrà comunicato, lei è stata in letto, come si è sentito? Ho avuto paura da un lato, perché comunque... Si presentava una Calabria d'Italia. Sì, ma è che poi anche nella vita privata e pubblica ti esplode una bomba atomica. Eh sì, perché ti cambia le vite, giusto? Io poi tra l'altro avevo mia figlia neanche di un anno, quindi mi ha cambiata radicalmente la vita. Sua moglie cosa gli ha detto? Eh no, vabbè, mia moglie era d'accordo... Mi ha detto, oh amore mio, sono 11.300 euro, sono 11.800 euro, sono 11.800 euro, sono comodo, insomma. Vabbè, poi abbiamo parlato di questo, al di là di questo c'è un fatto familiare. Sai qual è stata la molla? Noi, come sai, siamo stati per oltre dieci anni a Bologna, laureati qua, poi siamo partiti. Quando poi abbiamo avuto l'opportunità di tornare in Calabria, io ho visto con mano la differenza che c'era nella vita al nord e in quella in Calabria. Non che prima non la conoscessi, ma dopo l'hai toccata con mano, hai vissuto per dieci anni quella vita. E quando ti trovi qui a vedere questa differenza, ti viene... La voglia di combattere. Ma un cavolo di senso di riscatto ti viene. Esatto. Perché a noi ci devono essere vietati dei privilegi, dei diritti che invece hanno su? Perché? E ti scatta questa cosa dentro e allora lì abbiamo... Che pian piano ho cominciato, sposavamo quei principi e quei valori che erano di uguaglianza, di lotta per l'equità, per la giustizia, che erano davvero fondamentali. E abbiamo iniziato piano piano questa avventura. Mai pensando che ci portava dove ci avrebbe poi portato. Poi quando abbiamo visto che era quella strada, che c'era la possibilità di realizzare qualcosa, a quel punto diciamo spesi tanti, perché io ho iniziato nel 2009 con il movimento. Proviamoci, hai detto, proviamoci. Eh sì, se voglio provare a fare qualcosa per la mia terra. E questo le fa onore, eh? Le fa onore. Grazie. Se il pensiero è questo, sicuramente è questo il suo pensiero, perché i giovani vorrebbero andare a Calabria, la sua terra, e i suoi figli sono la mezza, parliamoci chiaro. E vorrei soprattutto che andassero fuori, vedessero che cosa c'è nel mondo, ma poi devono tornare in Calabria. E devono portare lì il loro bacino di esperienze, sì. Dovete tornare, che è la cosa più difficile, non è partire, perché tu parti, piangi, io non nascondo di averlo fatto quando sono partito, avevo 21 anni, 22 anni per Bologna. Però la cosa più difficile è tornare in Calabria, tornare, crederci, lottare per la propria terra e sfruttare l'esperienza che ti sei fatto per il bene della nostra terra. Onorevo, siamo così alle fine perché reclamano magari la Camera, la sua presenza, perché deve votare. Non lo so, te lo dico subito perché vediamo se è arrivato banalmente anche il messaggio. Qualcuno che ha avviso, cerca di rientrare perché sennò ti dichiarano assente, come funziona? No, no, abbiamo il messaggio ovviamente che dicono che tra un po' si vota. È arrivato? No. Ancora no, stanno prendendo comoda. No, no, volevo dire, allora il primo giorno che è arrivato alla Camera, come uno studente, il primo giorno di scuola, quando è entrato in queste Camere che tutti sognano di entrarci, nel senso anche un cittadino comune per vedere, come si è sentito? Spesato, insomma, un po' come il primo giorno di scuola, il bambino al primo giorno. Con un peso enorme sullo stomaco. Di responsabilità. Sì. Cioè, in realtà qua rappresento l'Italia, rappresento la mia terra. Ha avuto questa sensazione? Assolutamente. Vuoi sapere qual è un'altra cosa? È che questo peso, ogni giorno che passa, aumenta. Perché più tempo stai qua dentro e più prendi consapevolezza che devi fare qualcosa per la tua terra, che sei nelle possibilità di fare qualcosa. Non è detto che ci riesci, è un mondo complicato. Cioè, le persone che pensano che basta essere in maggioranza per risolvere i problemi, mi dispiace, ma pensano male. Anzi, forse diventa ancora più complicato, perché a gridare, a distruggere, siamo bravi tutti. Però poi si tratta di costruire, quando si tratta di costruire è difficile. E sto peso aumenta sempre di più. Poi è anche un senso di smarrimento, perché dici... Allora, quello che si dice è che lei, intanto facciamoci questi anni, no? E provo a fare qualcosa per la mia terra. Però non so se mi candido poi. Lei intanto vuole fare del bene. E poi penserà alla prossima candidatura. Sì. È vero questo fatto? Sì, assolutamente. Come si dice... Se dovessi rendere conto che ha sbagliato in politica in questi anni, lei si ritenerebbe? Certo, assolutamente. Perché, tra l'altro... Non è per la coscienza di dire no, non è cosa mia, non ce l'ho fatta a fare delle cose per la mia terra, perciò è meglio che mi dimettere che vado ad un altro. Non nasco politico. Perché poi succede questo, oltre che sia lì dentro, molti politici ci prendono gusto. Sì, è vero. È vero, perché la tentazione è forte. E diventa ancora più forte quando tu hai fatto tutto un percorso, sin da giovane politico. Perché vivi per la politica? Cioè, scusa, vivi della politica. Io non vivo della politica. Io casomai, diciamo, vivo per la politica, nel senso che poi non vivo per la politica perché ho altri interessi. Però è una cosa a cui l'ho scelta, per quello che ci ho avuto poco fa. Sono in ballo, ballo. E cerco di ballare bene per quanto posso, con entusiasmo, con voglia di fare. Poi se sono rosa le fioriranno, si dice, no? Quindi se sono fiori fioriranno... Questo era un incontro che abbiamo fatto per conoscerla meglio. Noi abbiamo scherzato, io ho fatto qualche battuta, le chiedo scusa se mi sono permesso. Anzi, devi farle di più. Poi io non ho nessun problema, come hai visto a rispondenti. Anzi, più piccanti sono, più... Va bene. Però è giusto, insomma. Io mi auguro che... Conoscere l'onore, perché tutti conoscono il nome, la mese, perché lo vedono presente, devo dire, in tutti i posti. Però nessuno sa veramente chi è barbante nella sua vita. Perché noi cittadini dovremmo sapere veramente chi ce la presenta. Lei oggi ci ha dimostrato e ci ha detto le sue verità. Guardate, anche di vita privata. Io la ringrazio, l'apprezzo per quello che ha fatto. Anzi, guarda. Mi sta dedicando mezz'ora mentre c'è un'emozione. Ma no, ma questo dovrebbe... Vedi, io sarò contento quando queste cose diventeranno normali. Perché quando ci sono le persone che mi dicono, ah grazie... Ma grazie, ed è che io faccio il mio lavoro e lo faccio con felicità e con passione. Poi spero di farlo al meglio. E questo è, secondo me, lo spirito che poi deve muovere anche gli altri. Non erigendosi su un piedistallo. Non serve. Ultima domanda. Quando viene in Calabria, ogni fine settimana, quanto dedica alle sue famiglie? Non tanto quanto dovrei. E quanto mia moglie vorrebbe. Perché, almeno io, non ho pause. Non esistono sabati e domeniche. Non esiste orario. Nulla. Quindi è variabile. C'è quando riesco a dedicargli una giornata intera, una domenica intera. C'è quando sono poche ore. Quanto cravate ha un onorevole? Allora, io ne ho una... 3, 4, 5, 6, 7, 8 cravate. Una al giorno, per il Parlamento? No, dipende dagli abiti. Ah, dipende da quanto abiti ha? Allora, 1, 2, 3, 4, 5 abiti. 5 abiti. Ma sono cresciuti da quando è onorevole o... Per lavoro mi sono sempre vestito così, quindi... Già se lo aveva? Beh, diciamo che lo cambiate perché qualcuno è un po' vecchio. Passati i tre anni, insomma, ogni tanto vanno cambiati. Poi ormai compra a Roma, fa shopping a Roma? Assolutamente no. Sempre in casa? Certo. Almeno portiamo i soldi in Calabria. Bene. Ora, vabbè, voglio andare in casa per questo incontro. Lo lascio subito perché devo andare in Parlamento. Vediamo se becchiamo qualcun altro. Mi auguro che ci saranno altri incontri perché... Conoscere l'onorevole Sebastiano Barbanti è stato veramente piacevole per la città. Perché tutti mi diciamo... Ma ce lo fai conoscere veramente. Anzi, mi auguro che sarò ospite anche nella nostra rassegna stampa, quindi nei prossimi giorni. Quando volete, tu lo sei sempre a disposizione. Colpo di telefono, io arrivo. Poi, insomma, sono là pure, insomma, quel punto di incontro che ho aperto lì. Quindi, a disposizione di tutti quanti. L'ultima volta che vi sta a Renzi? Cioè, ma, sempre in vacanza. Cioè, in vacanza. No, l'ultima volta è quando... Ma no, forse sarà di aprile, ma perché c'era una votazione proprio sull'ultimo voto sul referendum, una roba del genere. Mi sembra che esaggia quando dicevi le cose, il ponte di Messina, insomma, mi sembra un po' eseggiato, insomma, questo ponte di Messina che non ci sarà mai. Beh, il fatto è, se prima si mettono a posto le cose che ci servono, e devo dire che oggi Renzi l'ha detto, prima facciamo le opere che ci servono, poi facciamo il ponte. E a quel punto, sì, prima mettiamo a posto la sanità, mettiamo a posto l'autostrada, mettiamo a posto la strada alle 18. A proposso di autostrada, no, a proposso di autostrada, sarà inaugurata la nuova... Il 22 dicembre. Ma no tutta. Cioè, penso che senza la mezza rimane sempre in quel modo. Eh, non lo so, questo me lo devo studiare, perché è una bella, perché anche io me lo sono chiesto. Eh, scusa, l'autostrada salendo le giocabili non si pensa che è tutta bella se è corsia, non è così, eh? No, quantomeno penso che si riferisca... Ci sono molti viadotti. Sì, 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 quella parte va sicuramente... So che forse era stata anche fatta già il progetto, ora non ricordo, quella parte va rifatta, parliamoci. Insomma, non è che Renzi poi... Però, bene o male, almeno non c'erano più sensi unici. Penso che si riferisca al fatto che non c'erano più sensi unici, è arrivato al confine con la Calabria e non c'è più quella gincana da fare. Si è stato per vent'anni l'Arancio. Insomma, quindi qualcosa... C'era un traguardo quando si arrivava là, non so se aveva questa... Sì, sì, sì. Eh, ma è l'Agronegro siamo. Ma poi si chiede a me che io vorrei un'autostrada, ovviamente, a tre corsie, una tre a tre corsie tutta, e soprattutto vorrei un'autostrada anche sullo Ionio, perché la Stratale 106... Ecco la Stratale 106. La Stratale 106 è una vergogna. È un cimitero, ogni 10 metri c'è un fiore. Sì. Allora, onorevole, lo lascio veramente. Le chiedo scuse, l'ho preoccupato tempo di nuovo, ci vediamo alla mezza. A disposizione quando vuoi. Questo lo pago io, pagate voi. Pago io, ovviamente. No, no, non vorrei capire, cioè, vabbè, non stiamo scherzando. Grazie, ci vediamo alla prossima. E non ci prendono sul serio, tantone non l'han fatto mai. C'è sempre stati il pesce d'aprile, anche quando l'aspetti, anche quando lo sai. E non ci prendono comodamente, e con il loro dai e dai, Negono il loro, chi taggia, consente, noi non abbiamo taggiunto mai. E non ci beccano più, e non ci provano più. Non se lo chiedono più, cosa facciamo qui, nelle scarpe, da cosa? Libera uscita, in libero mondo. Libera scelta, di dirlo io, com'è che mi spendo, com'è, com'è.